Buongiorno, ci troviamo alla piscina Acqua Dream su Civo Dove siamo? Dove siamo in diretta? No, nessuno vuole Su Google Plus se mi direi Allora siamo all'Acqua Dream su Civo Perché devo fare un bagno Oggi è sabato quindi andami vicino La protezione costa Paolo, ti spiego, allora c'è gente o c'ho? Ti spiego, allora c'è gente o c'ho? Eh ma ti devi aprire la fotocamera Una le telecamere si deve aprire Eh va bene Raffè ma che fai? Raffè? Ma che fai? Aprenditi Si, YouTube questo Ti faccio venire a piscina da San G Questo fa visualizzazioni Maria, Paolo, Antonio, Paolo Mettiti allora se devi mettere il mio video Metti con la partecipazione straordinaria Di Raffaele Per il contatto È tutto pieno Ah guarda qua Sto sbagliando la piscina Allora con quest'ultima clip su Bar Da Fè diciamo che mi devono seguire su Facebook con il nome Francesco Paolo di Biasi Instagram Biasi YouTube No Twitter Instagram Biasi Biasi Trattino Bar Ah trattino underscore Scusa 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 Sono sicura di te Ma io non sapevo Molto importante mettendo il pollicello in su Scusa Siamo tornati dal bar perché faceva veramente troppo Faceva veramente troppo caldo Adesso è ancora più caldo però fortunatamente Tengo un ombrellone davanti che mi salva la vita Fortunatamente La nostra crew Raffaele Salute E va bene E sono le 5 Alle 5.20 si parte E alle 6 si torna a casa Quindi ok E torniamo a casa Verso le 6 I capelli miei stanno a puttana Però vabbè non ce la doccia E non ce la vedo Ok Dove Emo E ci danno Ci stiamo dirigendo agli spogliatoi Perché il signorino Raffaele deve cambiare Perché il costume Perché è un porfato di acqua Io so fu Guardate qua Allè mission complete Guarda guarda Cambiato Siamo tutti operativi per ritornare a casa Qui con la crew Sono le 6 quasi E vabbè Torniamo a casa A freddocio Sto malissimo Sono adesso tornato Ma veramente Faccio un caldo estremo Veramente una roba assurda Adesso mi vesto Vi faccio vedere l'outfit E poi interrompiamo il vlog Magari in piazza A quegli amici Perché lo Allora l'outfit è Camicia bianca Pantalone verde militare E vans Io vi saluto Vi ringrazio Ci vediamo nel prossimo video Ciao bello Ciao bello Ciao bello